Alessandro, eccoci, si stanno, sai che ci sono, si stanno attivando, Iacomini mi stavi dicendo, si sono già attivati, non si stanno attivando, Iacomini? Lei attraverso me per esempio, se io vado, è possibile anche noi, magari contattando i nostri team per cercare di capire se è possibile, magari anche in relazione con la Farnesina che lavora benissimo, di riuscire a dare una mano ad Alessandro. Ci sentiamo tutti i giorni, cerchiamo di dargli veramente tutto il conforto possibile perché se lo merita. Sì, allora siamo adesso collegati con Giovanni Bruno, ciao Giovanni. Allora, le tue parole sono queste, se provi a scappare sparano, questa è la tua drammatica testimonianza, dove ti trovi esattamente? Giovanni, mi dicono che sei barricato in casa, dei tuoi suoceri, con tua moglie e tua figlia, di 22 mesi. Giovanni, a te? Sì, è vero, siamo qua a Kerson, bloccati in casa, se proviamo ad andare all'uscita della città ci sono i posti di blocco dei militari che sparano a vista. Abbiamo provato a lasciare il primo giorno e fortunatamente non ci hanno sparato ma ci hanno rimandato indietro, però abbiamo testimonianze di altre persone che hanno provato a lasciare dopo e sono state sparate. Una famiglia è morta e marito, la moglie e la figlia ferite e un'altra famiglia invece hanno sparato solamente al motore della macchina. Non vogliamo rischiare la vita, ma vogliamo andare via di qua. Sta diventando invivibile, non può entrare nessuno, non può uscire nessuno. Mia moglie ha finito le medicine per la tiroide, il cibo sta iniziando a finire dappertutto. Ci sono supermercati vuoti, completamente chiusi, altri supermercati hanno qualcosa, ma non è rimasto quasi niente. Usciamo presto la mattina, impauriti, ci sono agricoltori locali che vendono ortaggi vari, possono loro colpivare. C'è questo supermercato, ma ci sono file lunghissime, 100-150 persone. Siamo spaventati, perché non sappiamo mai cosa può succedere da un momento all'altro. Perché a questo punto Giacomini uscire diventa il rischio altissimo di perdere la vita, perché ti sparano addosso. Sì, altissimo. Mi ha colpito, devo dire, il fatto che non li hanno sparato e li hanno rimandati indietro. Sanno bene che questi atti hanno poi delle conseguenze enormi. Sono italiani, sono nostri connazionali, stanno lì. Non devono sparare a nessuno, purtroppo questo è un disastro. Voi vivete nella città forse più colpita. Però è significativa, no? Questo tipo di atteggiamento, l'unica cosa è di prestare grande attenzione. Qui è inevitabile, ci vuole una tregua. Noi lo continuiamo a ripetere. Nella zona dove si trova, Giovanni, adesso voi avete lì dei presidi o proprio non ci siete lì? In quella zona specifica lì è talmente abbattuta che non c'è nessuno, perché è una zona veramente completamente sottoseglie. Ancora peggio di Maripol? Molto peggio, perché sono già in una fase molto avanzata. Abbiamo visto che è una zona dove sono stati colpiti tanti, tanti, tanti civili. Tanto è vero che molti in fuga sono arrivati proprio da lì. Quindi è chiaro che si vede dagli occhi del nostro connazionale che regna la paura. Ecco perché noi, anche con le altre agenzie umanitarie, continuiamo a chiedere una tregua che dia la possibilità, almeno a lui e alla sua famiglia, non dico di cercare medicina, perché oramai mi sembra impossibile, ma almeno di cominciare a sfuggire. Ma le tregua le avevano date, ma nulla ha funzionato nei corridoi umanitari, niente di niente. No, questo tema poi dei corridoi, diciamo la verità, un corridoio è quando due parti si mettono d'accordo per far passare in pace popolazioni. I corridoi umanitari dove passa chi vuole se va in Russia, oppure in alternativa gli si spara addosso, non è un corridoio umanitario. Non sono come quelli di questa estate in Afghanistan dove venivano prese le persone, portate sugli aerei e riportate in Italia. No, ci vuole una tregua, duratura, firmata, che possa consentire a queste umanità di uscire. Non c'è dubbio su questo, lo diciamo dal primo giorno. Giovanni, veramente la nostra comprensione, la nostra vicinanza in questi momenti drammatici che state vivendo tu e tutta la tua famiglia, poi mi dicevi che sono finiti anche i farmaci per la tiroide, la tua moglie. Sì, i farmaci sono finiti e non penso che potrà resistere a lungo senza farmaci. Come diceva il nostro connazionale, l'unico modo per uscire è andare in Russia, attraverso la Crimea, che è molto vicino da qua. Per questo questa città è stata presa la prima di tutte, è assediata subito dai russi. Anzi, le autorità locali se ne sono tutte scappate. La polizia è scappata a Mikolaev, subito il primo giorno la mattina sono riusciti a scappare. Purtroppo noi abbiamo provato il pomeriggio e c'era troppo tardi. Non so che dire, non so che dire, non capisco perché per la Crimea dicono che fanno andare. Ho visto i turchi andare in Crimea con un treno, ho visto i vietnamisi andare in Crimea con un treno. Non so, non so che dire, sono senza parole. Perché la rete ferroviaria è totalmente andata? Mai. Quando ha visto queste persone andare? In che periodo? Non in questi giorni? Semana scorsa? Sabato sono andati via i vietnamisi, qualche giorno prima, tipo tre o quattro giorni prima, sono andati via i turchi con un treno organizzato dall'ambasciata turca. Li hanno prelevati da soci, con un certo freight li hanno portati a Istanbul. è una testimonianza reale perché abbiamo un'amica in comune che ha una famiglia che conosce. Dimmi, dimmi, Iacomini. Credo che se è accaduto per queste altre popolazioni, quindi i turchi e i vietnamiti, credo che il nostro ministero vi affiancherà eventualmente anche per un'evacuazione. Insomma, se sono stati fatti accordi con loro sabato, quindi non due settimane fa, credo che l'unità di crisi penserà a questa situazione. Ne sono a corrente, li ho informati telefonicamente, ne sono a corrente. Ecco, tant'è che ne sono a corrente. Chiaramente anche andare verso la Russia non è facile per voi. Iacomini, lei che comunque è come Unicef, fa una sorta di ponte, di mediatore, anche con tutti i giorni, tutti i minuti, con unità di crisi, potete intervenire anche su questo caso. Sicuramente presenteremo anche noi in unità di crisi questa situazione, insomma, perché soprattutto se c'è stato, diciamo, un pregresso di altri paesi. Credo che sia. Se ci sono già stati degli accordi con altri paesi, possono esserci anche con l'Italia. Sì, ahimè, come noi... Rispetto a quello che ci sta raccontando ovviamente Giovanni. Ahimè, rientriamo nella famosa lista pubblicata qualche settimana fa dei paesi non graditi. Delle sanzioni. E lui lo sa bene e quindi è chiaro che c'è un altro tipo di atteggiamento. Sì. Giovanni, ti senti di fare un appello, vuoi dire qualcosa in questo momento? È veramente difficile, credimi, raccontare questa storia. Ci sentiamo come voi, d'altra parte impotenti davanti a quello che sta accadendo e davanti alla vostra sofferenza, preoccupatissimi perché finiscono quei farmaci. Avete fra l'altro una bambina di 22 mesi, piccola, all'età di Carlotta praticamente. Siete totalmente soli in questo momento, isolati, abbandonati. Guardi, io sono in contatto con l'unità di crisi. Mi hanno detto che stanno facendo di tutto giorno e notte. Sono molto contento che stanno lavorando per noi. Io chiedo al nostro Ministro degli Esteri, al nostro Presidente della Repubblica, al Ministro del Consiglio che facciano qualcosa per noi, che ci portino via di qua. Una soluzione ci deve essere, basta cercarla, ci sarà. Non penso ci sia solo un territorio pieno di combattimenti, lo so, fino al confine Moldavo, questo ne siamo a corrente. Però una soluzione ci deve essere, basta cercarla, abbiamo bisogno di aiuto. Qui diventerà invevevibile, non arriva niente, non arriva niente. Siete lì in un condominio, in un palazzo o vivete in uno stabile singolo? Quanta gente c'è là con voi, oltre a quelli che ho nominato prima, i suoi suoceri, sua moglie e sua figlia? C'è qualcun altro? Noi abitiamo in un condominio di 11 piani, abitiamo a 7 piano. Purtroppo andare nei bunker è molto rischioso, dato che i bunker sono a piano terra e ci sono i militari in giro e i bunker hanno solamente un'entrata. Non è consigliato andare nel bunker. Nel palazzo tutti gli appartamenti sono abitati, sono più di 50-60 appartamenti. Nella città di Kersson, è una città vicina a Nuova Cacovia, siamo più di 40, tra italiani, coniugi, figli e parenti vari. Siamo anche più di 40. Cosa, Iacomini? Aiutaci. Io credo che a questo punto, visto che siamo in diretta, credo che approfittiamo, anche se ci sono agenzie collegate, per raccogliere l'appello di Giovanni, quello di Alessandro, di tanti italiani, perché molti di questi hanno bambini affinché veramente venga fatto il possibile per tirarli fuori da questa situazione. Ecco, c'è Alessandro collegato, Alessandro da collegato da Napoli. Vedi che la situazione di Alessandro è molto simile. Alessandro si era trovato qui in Italia perché doveva fare una visita, altrimenti sarebbe stato lì a Mario Polo insieme alla sua famiglia. Quando è scoppiata la guerra, lui era qui, ha provato un tutto e per tutto, soprattutto i primi giorni, a portarli, farli portare in Italia, ma era diventato impossibile, perché un po' come quello che ci racconta Giovanni Bruno, anche Mario Polo è stata una delle zone più bersagliate dai bombardamenti. Dunque la situazione della famiglia è molto simile anche con quella di Alessandro. Alessandro ha i parenti lì, non era riuscito a sentirli per ben 13 giorni. Adesso fortunatamente grazie a una comunicazione di un militare ti hanno detto che sono vivi dentro questo palazzo perché hai sentito l'attitolare di questo condominio, vicino al teatro stanno lì a Mario Polo e per ora sono in sicurezza per modo di dire, ma sono sempre all'interno di condominio, tanto quanto rimane Giovanni Bruno con tutta la sua famiglia, anche se è in un'altra zona. Dunque l'appello è quello che vengano ascoltate queste persone, Giacomini? Sì, soprattutto perché veramente la nostra unità di crisi, il nostro Ministero degli Esteri, il nostro Governo, la Presidenza della Repubblica, abbiamo una tradizione veramente straordinaria in questo senso. Credo, quello che posso dire ai nostri italiani che ci stanno ascoltando in questa situazione è di avere molta fiducia, perché credo che veramente se il dottor Minasi, come ha detto poco fa l'ambasciatore Minasi, stanno facendo di tutto c'è da credere che tutto sarà fatto. È chiaro che in una situazione di guerra bisogna tenere duro e avete tutta la nostra solidarietà in questo momento. Se possiamo veramente esserti utili in qualsiasi momento, noi ci siamo Giovanni insieme anche a Giacomini e anche per Alessandro, Giacomini si medierà, si impegna per sostenere anche questo momento, queste vostre storie e assolutamente per qualsiasi cosa noi siamo qui, ci siamo nel pochissimo che possiamo fare. Pensavo prima all'immagine del Signore, avete risolto tante cose da qui, no, Eleonora? Purtroppo lui è in Italia, è molto diverso, no? Ci piacerebbe vederli sorridere allo stesso modo di gioia. Allora, Giovanni, un abbraccio forte, un abbraccio forte, almeno portagli a medicina. Sì. Voglio arrivare a medicina. In tanti crisi. Grazie a Giovanni Bruno, ciao anche al nostro Alessandro. Ciao. Grazie, ciao. Alessandro, ci sentiamo sempre. Grazie sempre di tutto. Grazie di tutto perché siete veramente molto vicini, un supporto non indifferente in queste situazioni. Grazie. Vorremmo fare molto molto di più, Alessandro, credimi.